Un pranzo per dire grazie a chi ha deciso di donare il proprio tempo. A due passi, dal battello leonardesco a Inbersago, l'ospici GL Elecco ha invitato tutti i suoi volontari, rendendo loro tributo per il fondamentale lavoro svolto ogni giorno. Siamo una bella comunità unita, capace di discutere, capace di preoccuparci anche per le cose che magari non vediamo che vanno come vorremmo, capace anche di tristezza quando perdiamo un accompagno o un compagno di strada. Però oggi è un momento di festa, è un momento per ringraziare, ringraziare un gruppo di volontari numeroso che mette a disposizione il proprio tempo libero e lo fa per stare a fianco a chi ha bisogno, a chi chiede un sostegno. Niente retribuzione, ma una grande soddisfazione che è in tutti loro, quella di mettersi a servizio degli altri. Un grande esempio di solidarietà e la capacità di rendere la parola inclusione qualcosa di ben radicato nella vita di tutti i giorni. Più di 120 volontari che si alternano tutti i giorni nell'aprire la lega, la sede, e mettersi a disposizione di tutte le persone che hanno bisogno di risposte in merito ai diritti espressi e non espressi. I servizi più usati vanno dallo speed, quindi portare le persone a poter essere autonome poi nella ricerca dei propri documenti, a quello che può essere più significativo sono gli sportelli di sostegno. Noi siamo molto contenti di questo presidio che i nostri volontari fanno, li ringraziamo tantissimo per la loro disponibilità e per tutto quanto mettono in campo. Continueremo col prossimo settembre incrementando ancora i servizi dedicati alle necessità individuali. Un momento di festa e convivialità che si è concluso con il taglio di una splendida torta. Al centro il logo dello SPI. Proviamo a stare un po' assieme, divertirci, visto che quest'anno è stato un anno molto teso, molto complicato. I nostri volontari sono quelli che alzano la clera la mattina e l'abbassano la sera in tutte le nostre sedi sindacali. Solo un punto di riferimento, sanno dare risposte adeguate alle persone quando arrivano da noi e credo che è una risorsa indispensabile per tutta l'organizzazione. Guaia se non ci fossero.